per Luigi Bersani. Oggi Giorgia Meloni, che tra l'altro ha avuto anche un colloquio con il re della Giordania, Abdallah, ha detto che questo è il momento di restare lucidi. Oggi restare lucidi, che cosa vuol dire? Vuol dire stare con Israele senza sé e senza ma? Vuol dire capire anche le ragioni di Gaza e di Teheran? Non ho capito cosa intendesse. Qui stanno lucidando i cannoni, non è che c'è poco da stare lucidi, c'è da fare qualcosa. A cominciare, credo, verso i paesi nei quali abbiamo più influenza, dico come Europa, dico come Stati Uniti. Io credo che il modo migliore di aiutare Israele sia quello di portare Netanyahu a ragionare. Con un piglio magari un pochino anche un po' più diretto, un po' più energico di quanto sia Stati Uniti e Europa abbiano fatto fin qui. Perché al di là di questi momenti, io ho il sospetto che trattenere questa escalation non sia francamente semplicissimo. E quindi? Perché, appunto, qui, insomma, Israele ha messo una, con la vicenda di Gaza, ha messo una macchia sanguinosa sulle sue sacrosante ragioni. Questo è il fatto. che ha spostato l'attenzione, l'interesse e la solidarietà di un pezzo enorme di opinione pubblica mondiale. Esistono le opinioni pubbliche, poi esistono anche, appunto, questi rapporti, i contatti diplomatici, ma esistono le opinioni pubbliche. C'è bisogno di un gesto di consapevolezza. È l'occasione, come diceva Caraccelo poco fa, per Israele, è l'occasione di, diciamo, recuperare un minimo, diciamo, di equilibrio delle opinioni pubbliche mondiali, rinunciando a innescare un ulteriore passaggio dopo quelli che, fra l'altro, ha innescato anche lei. Perché non è che si bombardano le sedi diplomatiche per ammazzare un generale come fosse acqua fresca, no? E la gente lo sa questo qui, in tutto il mondo. Ecco, lei fa riferimento, Bruno Cacciari fa riferimento a Bersani, all'attacco del primo aprile. Si parla della reazione.